Amici degli basket siamo qui con Stefano Gentile, Stefano grazie per essere con noi. Allora, una cantù che ha dimostrato ancora una volta di essere uno schiacciassassi inarrestabile in casa. Soprattutto ha impressionato l'intensità con cui ha giocato una partita che in fondo è durata solo 15 minuti. Ma penso che il fatto che comunque giochiamo in casa noi sappiamo che ci dà una gran mano. Siamo in 6 barra 7 in campo con i tifosi. Il palazzo non è enorme però tutti quelli che vengono sono un po' oltre per noi. Quindi è bellissimo giocare qui. Penso che comunque se abbiamo fatto una buonissima gara il fatto che abbiamo un po' più di energia, un po' più di intensità è dovuto al fatto che stanno usciti in Coppa abbiamo un po' meno impegni. Quindi tutta la settimana possiamo lavorare e riposare bene come dovremmo. Recuperare da tutti gli infortuni i piccoli acciacchi che uno accumula durante il primo periodo. E quindi si è dimostrato poi oggi con la grande intensità che siamo riusciti a mettere tutti in campo. Tornando alla tua partita, nel secondo quarto da 27 a 4 sei stato grande protagonista con quelle tre. bombe che hanno in qualche modo scavato il solco che poi è andato dilatandosi lungo il corso della partita. Si vede che Cantu è veramente un'ottima incubatrice perché si vede che giochi con una grande fiducia e sei cresciuto molto durante l'anno. Che cosa attribuisci a questo sviluppo che ha avuto anche il tuo gioco e questa fiducia che stai trovando? Penso che io sono sempre uno che lavora su se stesso per migliorare tutti quelli che sono gli aspetti che secondo me sono importanti per quello che è il mio ruolo. Il tiro secondo me è imprescindibile per un playmaker perché apre il campo, un playmaker che non può tirare è facilmente marcabile, prevedibile, poi soprattutto sui pick and roll dove magari una volta puoi fermarsi e tirare, nel momento in cui non tiri ti passano sotto e lì è finito il pick and roll quindi non puoi creare neanche per i compagni dopo. Io sono uno che lavora molto in palestra, penso che comunque questa fiducia mi venga da questa cosa qui. Ecco, sappiamo come Pino Sacripanti prepara meticolosamente e scopulosamente le partite. Ciò nonostante possiamo dire che un po' Cremona vi ha sorpreso nel primo quarto? Ma sono venuti fuori subito nel primo quarto con grande fiducia. Io penso che allora la loro mentalità era un po' quella di non abbiamo niente da perdere, nel senso che comunque qui a Cantù non abbiamo mai perso a parte quella partita in Coppa. Quindi loro sono venuti fuori, hanno sparato tutto quello che avevano e noi siamo stati bravi a rimanere lì sul pezzo nonostante loro facessero spesso canestro e giocassero bene in attacco e poi dopo abbiamo rotto la partita nel secondo quarto dove abbiamo cominciato a difendere sul serio e poi abbiamo fatto canestro importanti. Ecco, si vede che la squadra è proprio tutta con il coach perché nonostante la partita fosse già scappata per Cremona e vinta per Cantù ha chiesto comunque difesa a tutto campo e tutti con abnegazione si sono applicati. Quindi come dire, più che mai uniti intorno al coach? Sicuramente, penso che alla fine abbiamo lavorato molto sulla nostra mentalità di gioco perché comunque quando uno va molto su e poi molla un po' questa cosa va ad intaccare la mentalità. Se vuoi avere una mentalità vincente devi giocare 40 minuti perché devi avere l'abitudine proprio ad essere aggressivo per 40 minuti sia le partite che vinci di 20 sia le partite che sono punto a punto fino alla fine. Quindi penso che questa cosa ci potrà essere utile più avanti. Grazie mille, complimenti in buca al lupo. Grazie a voi, crepi il lupo. Grazie.